Benvenuti cari follower. Un terremoto molto forte e violento ha colpito l'Italia oggi, lunedì 18 settembre 2023, provocando grande paura nei residenti, che sono usciti di casa avvertendo una fortissima scossa. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di sostenerci innanzitutto ammirando questo video, iscrivendovi al canale e attivando la campanella su tutte le notifiche, in modo da ricevere una notifica non appena si verificherà un nuovo terremoto in Italia. Miglior canale in Italia che trasmette le ultime notizie sui terremoti in Italia nel momento in cui si verificano con alta credibilità. Grazie. Se la terra trema forte lunedì mattina nel nord Italia, precisamente nel sud dell'Emilia-Romagna, precisamente nella regione di confine tra Emilia-Romagna e Toscana. Nello specifico, a 37 chilometri a sud-est di Bologna e 13 chilometri a sud-ovest di Riolo Terme, a una profondità di 10 chilometri sopra la superficie terrestre. Secondo il Centro Sismologico Europeo, il terremoto è avvenuto intorno alle 5.10 del mattino e l'intensità del terremoto ha raggiunto i 5 gradi della scala Richter. I residenti hanno avvertito una fortissima scossa durata circa 10 secondi. La gente si è svegliata dal sonno a causa di questo terremoto molto forte, che ha causato grande paura ai residenti. E c'è stata una guerra in casa per paura di questo terremoto. Secondo le prime informazioni a nostra disposizione, questo terremoto non ha causato finora alcuna perdita. Subito dopo il verificarsi di questo forte terremoto, si sono registrate circa altre 10 scosse di assestamento nel nord Italia. Pertanto oggi, lunedì, un fortissimo terremoto ha colpito il nord Italia, di cui stiamo dando seguito e di ogni altra notizia importante cercheremo di comunicarvi in seguito.